Daniela, tu hai scritto una tesi di pittura all'Accademia di Belle Arti su Claudio Rezzo di Trifiletti. Come mai hai deciso di impostare la tua tesi su un artista ancora vivente? Sì, infatti il punto è proprio questo. Volevo scioccare in un certo senso sia l'Accademia stessa, quindi l'istituzione, in quanto avevo voglia di creare una tesi sperimentale, essendo a Catania, quindi venendomi un po' difficile andare fuori a cercare artisti di altri paesi, avendo comunque lui qui a Catania che rispecchia esattamente la mia idea di art brutto, quindi di disegno infantile, quindi quest'arte pura che viene da un individuo che non ha mai studiato all'Accademia di Belle Arti, ho pensato appunto di farla su di lui e ho scommesso un po' su di lui perché ancora non era conosciuto da nessuno. Quindi ho studiato, ho parlato con lui, ho studiato le sue opere e ho notato che quindi questi grovigli di persone rispecchiano la vita stessa, quindi la vita che appunto con anche questi imprints che lui ha creato è una cosa assolutamente secondo me originale. Quindi l'arte, diceva un mio professore, l'artista vero è colui che riesce a creare l'opera d'arte, quindi ho pensato che lui ce l'ha fatta, sì. Queste opere comunque rispecchiano sicuramente la vita, tutti questi individui che si uniscono sia nei sogni, negli incubi, abbiamo tutti più o meno gli stessi sentimenti dentro. E' fondamentale comunque l'anima che lui, sia quella che mette lui praticamente secondo me nelle sue pitture ma anche quella che rispecchia l'anima della vita. Cosa suggeriscono le opere di Claudio Rezzo di Trifiletti? Suggeriscono sia pace in alcune, come alcune installazioni per esempio, che trasmettono veramente dei sentimenti fortissimi, ma anche un po' di requietezza, perché sono molto agitate sia nei colori che nel gesto, nelle forme anche. Alessandra Famoso, anche tu hai realizzato una tesi di laurea su Claudio Rezzo di Trifiletti. Sì, ho realizzato una tesi di laurea su Claudio per quanto concerne la parte delle relazioni pubbliche e l'organizzazione degli eventi artistici. Infatti ho conosciuto Claudio come artista e mi sono subito interessata alla sua grandissima capacità di organizzare da solo le sue mostre. Claudio nasce praticamente dalla sua stessa passione anche per l'organizzazione stessa dei suoi eventi. Quindi io faccio una tesi sulle relazioni pubbliche, ma è stato lui di insegnarmi effettivamente come si organizzano le mostre. Dalla sua numerosissima mailing list, alla sua capacità di disporre le opere con la giusta luce, con le giuste posizioni e anche nella realizzazione stessa degli inviti e del materiale pubblicitario. Quindi ho imparato più io da Claudio durante la mia tesi. Ho anche seguito Claudio a New York per la mostra all'Empire Set Building e anche lì ho visto e avuto modo di conoscere la sua propria forza di organizzatore perché è riuscito a fare tutto da solo, io ero solamente un piccolo aiuto per lui all'interno della sua grande organizzazione. Che valore assumono le opere di Claudio? Le cui tele sono state calpestate da centinaia di uomini e donne in varie parti del mondo. È un valore fortissimo appunto dove si sente l'energia delle persone che hanno calpestato queste tele. La prima volta che l'ho incontrato lui mi raccontava appunto del suo progetto e un po' scetticamente mi immaginavo ma come si fa a vedere un'impronta. E poi vedendo le persone calpestare questi tele a New York mi rendevo conto che effettivamente la diversità delle persone che portavano con sé sotto le scarpe dalla terra, alla cera, dei pavimenti super lusso, degli alberghi. Cioè la diversità delle persone che salivano sulla tela. Poi lì ho capito proprio davanti a questo passaggio di persone di tutte le razze, di tutto il mondo ho capito effettivamente cosa significava in Prince. Come risponde il grande pubblico a mostre di questo tipo? Sicuramente è un pubblico curioso, un pubblico anche di non addetti ai lavori. Per esempio qua adesso siamo al Castello Normando che è meta di turisti. Ma diciamo che Claudio ha la forza di attrarre il pubblico con le sue opere. Tutti entrano all'interno delle sue mostre, quelli invitati e quelli no. Tra l'altro stiamo anche provando a far conoscere l'arte di Claudio anche ad un nuovo pubblico che è quello di un centro commerciale e appunto per stare a sottolineare che l'arte non è solamente per le persone di cultura o che conoscono cosa sia l'arte. Ma l'arte può essere a portata di tutti. Un messaggio come quello di pace e d'amore di Claudio va bene per tutti. Lo capiscono tutti, lo capiscono anche i bambini che spesso sono quelli che rimangono più inchiodati davanti alle opere di Claudio. Quindi in cosa consisterà il prossimo progetto in Prince di Claudio? Il prossimo in Prince di Claudio è in Prince Italia, infatti si terrà qua a Catania presso Castorama a Belpasso. È un nuovo progetto, una nuova sfida appunto perché volevamo appunto spostare anche l'arte di Claudio a un pubblico diverso. Quindi per provare anche come reagisce anche il pubblico di un centro commerciale. Spesso i centri commerciali sono pieni anche di critiche da parte delle persone che dicono che allontanano le persone della cultura, allontanano le persone dalle piazze, allontanano le persone dal centro cittadino. E noi vogliamo dare una risposta dicendo che sì, è anche vero questo, ma allora spostiamoci anche noi con la cultura all'interno dei centri commerciali. Quindi una risposta propositiva e non sempre negativa comunque. Grazie. Grazie. Fabrizio, tu vieni da Palermo, qui ad Acicastello, per assistere all'inaugurazione della mostra di Claudio Arezzo di Trifiletti. Cosa ti ha spinto a venire qui oggi? Ma le opere mi hanno colpito, specialmente quella con la bicicletta, poiché sono un ciclista. Io sono avuto a conoscenza di questa mostra tramite internet, perché la mia ragazza frequenta l'Accademia delle Belle Arti, quindi stiamo cercando dei colori nuovi per un compito, per un esercizio, per degli esami che dovevamo dare a luglio. Abbiamo trovato le sue opere, io sono rimasto colpito, poi che faccio il fotografo ho detto a domandare a fotografare, mi piacciono. Da quanto tempo conosci Claudio? Eh, da una vita, da quando eravamo piccoli, avevamo 13 anni, facevamo gli scherzi a mare tutti quanti insieme. e poi quando io sono andato a fare il militare è stato molto vicino a me e Claudio, là proprio si è diventato un'amicizia veramente forte, che lui non ne ha mai fatto, io invece me ne sono fatto un anno, e quindi là si è stretto un rapporto molto forte, veniva a trovare. Quanto ha cambiato l'arte e la sua vita? Eh, tantissimo direi. Cioè, prima Claudio era un uliganzo, diciamo, ora invece è un messaggero di pace praticamente, con i suoi quadri, i suoi colori. Anche per questa puntata di Calte è tutto, vi ringrazio per essere rimasti in nostra compagnia, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro indirizzo e-mail calte-oasi.tv Arrivederci a tutti voi.